Amici di Bracciami Ancora, vi dico solo una cosa, segnatevi questa data, giovedì 4 luglio. Stiamo organizzando una serata dove il protagonista sarà lui, il Bue Galiziano, uno dei prodotti d'eccellenza sul panorama carnivoro, una bestia di 8 anni che il 4 luglio avrà toccato i 120 giorni di froratura. Sarà lui al centro di questo nostro incontro carnivoro, dove organizziamo questa serata? Al Bistrò Epos Poggio Le Volpi, siamo a Monteporzio Catone, alle porti di Roma e siamo circondati da vigne, perché il protagonista della serata sarà senz'altro il Bue Galiziano, ci saranno altre le cornie gastronomiche, ovviamente carnivore, e berremo il Roma, che è un pregiato vino che produce proprio questa azienda, Epos Poggio Le Volpi. Per 10 di voi la cena è offerta, quindi la possibilità di assaggiare questo bestione, è assolutamente gratuita, sarete i nostri ospiti come sempre quando organizziamo questi eventi, gli altri avranno la possibilità di stare con noi a prezzi sicuramente fuori dal mercato, è un'occasione questa che vogliamo dare a molti di voi, di assaggiare un prodotto, una eccellenza. Il bracere alle mie spalle già vi avrebbe dovuto convincere, questo bestione che sta sudando e che il 4 luglio avrà raggiunto i 120 giorni di froratura, dovrebbe essere l'elemento finale che vi spinge a telefonarci o a mandare la mail per provare a essere ospiti in questa serata. Come fare? Per prima notare bisogna telefonare allo 06 94 16 641 o mandare una mail a rossellamacchiachiocciola.com Amici, abbracciatevi ancora, noi vi aspettiamo, io il 4 luglio sarò qui, ma soprattutto il 4 luglio sarà lui il protagonista. Ciao, vi aspetto e come dico sempre che l'abbraccio sia con voi. Fatto tutto? Sì. Una cosa volevo dire, secondo me due motivi principali per venire qua, guardate questa, venite già qua da vicino, cioè guardate di che carne stiamo parlando ragazzi, cioè guardate il grasso giallo, questo grasso giallo ha un sapore pazzesco e l'abbiamo messo qui fuori da 10 minuti, sta sudando, guardate che cosa, madonna mia, questo secondo me messo sulla griglia è una roba pazzesca, però poi adesso mi porto fuori, già come gli famo fa 20 secondi di giro le telecamera perché devono vedere il surrounding, come vi dico io, i contorni, nel frattempo io continuo a massaggiarla, sta carne ragazzi è una cosa strepitosa, ti annusa, senti? La senti? Mamma mia che roba. C'è la vigna di Evo Spoggio Le Volpi, quindi siamo circondati da vigne. Ragazzi, amici di Bracemi Ancora, io più di così non posso fare, ok? Vi aspetto il 4 luglio, ciao!